ho passato tutta la vita cercare di dimostrare agli altri di essere normale di fare sport in maniera normale di lavorare in maniera normale di guidare in maniera normale di avere degli amici in maniera normale è ciò che ci rende diversi a renderci speciali il messaggio è potente va gestito compreso e metabolizzato una di quelle frasi che i mental coach utilizzano per motivare imprenditori ad incrementare il profitto delle loro aziende gli sportivi a raggiungere risultati mai immaginati superando ogni limite le persone normali a dare un colpo di spugna alla propria vita passata per raggiungere nuovi traguardi già le persone normali così diverse eppure così proiettate ad essere simili sino alla sovrapposizione ecco perché spiegare quanto sia straordinaria la normalità diventa la vera sfida straordinaria è la vita questo è ciò che è veramente straordinario la normalità dipende sempre da cosa è per te normale può essere normale avere una vita mediocre cosa che non consiglio mai o avere una vita eccezionale quello può essere normale e secondo me è quello che tutti noi dovremo rincorrere massimidiano sei chi ha scelto di prendere in giro la vita nonostante tutto e nonostante tutti tre arti in meno dalla nascita genitori separati quando aveva 14 anni il miglior amico brenno il primo a spingerne la carrozzina morto a 17 e poi gli attacchi di panico le offese degli ignoranti il peso di dover sempre dimostrare agli altri quanto fosse normale tra i diversi guardare lo specchio per trovare il proprio eroe senza distogliere anche lo sguardo dagli altri ma capendo e chiedendoci quello che siamo e quello che vogliamo essere veramente partendo da noi stessi dalla nostra città dal fatto che il dono più grande che abbiamo è quello del tempo è quello di poter respirare di quello di poter essere qua e nel momento in cui tu respiri hai la potenzialità il potere di pensare quindi di cambiare anche il modo di pensare e nel momento in cui tu cambi il tuo modo di pensare cambi anche il modo di fare e quando quel modo di fare diventano azioni che ti proiettano verso il risultato e verso la felicità allora la tua esistenza ha un sopore completamente diverso